Eccoci e bentornati sul mio canale! Nuovi video di news, nuovo video di aggiornamenti su Call of Duty Black Ops 3. Oggi torniamo a parlare appunto dello sparatutto in prima persona sviluppato dalla Treyarch e in arrivo il prossimo 6 di novembre con una notizia che arriva direttamente dal game designer director della Treyarch, David Vonderhardt. David Vonderhardt ha confermato durante le 3 2015 questa importantissima fiera videoludica che su Call of Duty Black Ops 3 torneranno o meglio troveremo nuovamente il livello dei prestigi per le armi. Se ben sapete proprio Call of Duty Black Ops 2 introdusse il livello prestigio delle armi cioè ogni arma ha praticamente un proprio livello e un proprio prestigio. Andando a completare appunto i livelli e i prestigi ovviamente andremo a sbloccare qualche cosa. Bisognerà capire quanti saranno i livelli ma soprattutto i prestigi legati ad ogni arma su Call of Duty Black Ops 3 e soprattutto che cosa sbloccheranno. Lo vedremo e lo capiremo sicuramente nei prossimi giorni quando cominceranno a trapillare nuove informazioni però comunque intanto su Call of Duty Black Ops 3 è stato confermato il livello prestigio per le armi. Fatemi sapere se siete contenti di questa novità ma più che altro di questa riconferma anche sul prossimo titolo della serie di Black Ops e se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale e condividete il mio video e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.